Io cociolo e vediamo che forse è uno di tutti i presi e allora probabilmente è uno molto forte. Memo cosa ne pensi di questo complesso di Monte San Giovanni Campano? Questo complesso di Monte San Giovanni Campano sia una delle cose più belle e più trasparenti che ci siano qua nella società. Per tutti i tipi di esperienze, adesso vi presento Paolo che è uno dei componenti di questo gruppo e probabilmente è una delle voci più importanti di tutto il gruppo. Perché suona? Paolo è già stato presentato, però peraltro di me è stato dietro di me. Praticamente io qua adesso sto presentando una cosa che non è mia, che è sua, quindi di tutti. E questo è Nico, che è il talento del gruppo, che studia il conservatore di flussione e organo, però ha molto talento e usa la tecnica di grande. Io sono il trombone, io sono il trombone. Lui, Massimo. Aia! Questa è la Carlo Fusto che ha fatto unità con Marzoni, poi invece è Massimo. Tu sei in mente una grande voce e fai la seconda parte. Carli! Carli! Francesco, poi c'è anche Francesco che è il più bravo, sicuramente, di MSGC, la mascotte e in breve diventerà il numero 2 di MSGC. Sottofondo musicale. Poi c'è Luca, c'è Luca che anche lui fa parte di questo grande gruppo e per i primi momenti sono i buoni game. Ci manca l'autista, 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 Mario. L'autista è Mario. Sta fumando la sinistra, probabilmente, cioè lui è il primo. Mario è quello che ha permesso a tutta questa banda di venire qua e farci il dono del loro amore. Ok. Ok. Grazie a te.